buongiorno e buonasera a tutti quanti uomini donne ragazzi e ragazze benvenuti a questa sera a casa di luca il mio canale youtube mi presento sono luca un ragazzo di 32 anni con una passione sfrenata e incalcolabile per cinema e musica ti avviso fin da subito su questo canale non parleremo di questo non parleremo di questo e soprattutto non parleremo di questo in questo canale parleremo e recensiremo di cinema e musica questo rapporto vorrei che fosse il più semplice possibile una chiacchierata tra amici una botta e risposta tra me e voi e non come tutte quelle volte che scriviamo i commenti a chi carica il video e non riceviamo mai puntualmente risposta ma quanto più sarà possibile vorrei poter interagire con voi e sapere la vostra perché ho deciso di aprire questo canale e di fare questi video beh le motivazioni sono due una un po più semplice e l'altra un po più profonda la motivazione più semplice nasce da dei discorsi fatti con degli amici e si stava parlando appunto di cinema ma tu conosci arland schwarzenegger no io non so chi sia io nemmeno ed io neppure ma se io magari vedessi qualche foto magari stiamo parlando di una persona che ha primeggiato in tutto quello che ha fatto dallo sport al cinema alla politica o peggio ancora ma chi è will smith io conosco jayden smith la motivazione più profonda scaturisce invece dal fatto che anche io sono uno spettatore youtube e mi è capitato un sacco di volte di leggere dei commenti di persone profonde che fanno delle analisi accolte e che sottolineano tutto quello che è il dettaglio di quello che stiamo vedendo in quel momento beh a me piacerebbe arrivare a queste persone tutto ciò nasce dall'esigenza di sentirmi libero libero almeno una volta di fare quello che mi piace e non quello che piace a grandi numeri nelle masse mi sono dato una scadenza uscirà un video ogni settimana ogni due dove tratteremo ogni volta un argomento diverso non ci saranno scalette niente di programmato tutto dipenderà da come sono andato a letto la sera prima o da come mi sono svegliato il giorno stesso sulla base di quello raccoglierò delle idee e racconteremo una storia tutto potrebbe cambiare fino all'ultimo istante che dire più di quanto non abbiamo già detto non so neanche io come andrà a finire questa storia nell'argomento di cui parleremo la prossima volta l'unica cosa che so è che per chi vorrà ci vedremo al primo episodio ciao ragazzi un momento un momento dimenticavo un'ultima cosa mi ero dimenticato iscrivetevi al mio canale lasciate un commento e seguitemi su instagram il link in bio ciao questa volta davvero però